Mezza pannocchia, bistecche, roast beef, salsiccia, finocchiona. Non erano le voci del menù di un ristorante stellato, bensì i nomi in codice delle varie sostanze stupefacenti. Sono stati i carabinieri di Sansepolcro a stroncare un giro di spaccio in Valtiberina che ha permesso il primo sequestro in Italia di una nuova droga, la wax, una sostanza resinosa di colore giallastro estratta dalla marijuana. Tutto parte dalla denuncia di una madre disperata. Il figlio aveva dissipato gran parte dei risparmi di famiglia in poco meno di un anno, per acquistare la droga. La donna aveva coraggiosamente denunciato il tutto, fornendo ai militari anche una descrizione del pusher. Le indagini hanno portato a 10 arresti e al sequestro di oltre un chilo di sostanze stupefacenti. In tutta la Valtiberina l'abbiamo seguiti fino a Perugia, dove si trovavano i tunisini da cui si rifornivano della sostanza stupefacente. L'anno scorso abbiamo seguito il primo sequestro in Toscana e forza anche in Italia di questo wax, che altro non è che un distillato di tetraidrocannabinolo, che sarebbe il principio attivo della marijuana, che viene estratto tramite il gas butano. Il processo si chiama BHO, Butan Hash Oil. Ha degli effetti devastanti, perché è il principio attivo purissimo, non ci sono altre impurità. E viene assunto in vari modi. È sostanzialmente come fosse una cera, infatti dall'inglese wax, oppure sotto forma di miele. Viene mangiato, viene inalato, viene spalmato sul tabacco e in altre forme. Per esempio in America è diffuso alla moda del dooming, ovvero questo estratto viene fumato in pipe di vetro, al pari del crack. Il costo è molto elevato, perché se voi pensate che da un grammo di marijuana, che costa circa 10 euro, si ricava 0,1 grammi di wax, potete immaginare voi. Per dirvi la sostanza che avevamo sequestrato noi, erano circa 150 grammi di marijuana, avevano distillato, perché è proprio un processo chimico di distillazione, distillato 15 grammi di wax.